Tra qualche giorno saranno oltre 100.000 i vaccini che l'Abruzzo avrà a disposizione per la lotta al coronavirus. Per la giornata di mercoledì sono previste l'arrivo di 38.000 dosi di Pfizer, in aggiunta ad un quantitativo già disponibile per garantire le somministrazioni. Una consegna importante che andrà ad accrescere la disponibilità dei vaccini nella nostra regione. Sulla base di queste disponibilità l'Abruzzo può accelerare ulteriormente nella lotta al virus. Abbiamo la certezza della consegna di mercoledì di circa 38.000 dosi di Pfizer, a cui poi dovrebbero seguire la consegna delle altre dosi, quindi di cui però dobbiamo avere conferma come sempre, perché io preferisco parlare quando arriva la nota che ci conferma dell'arrivo dei vaccini. Per esempio in questa settimana Pfizer sarebbe dovuto arrivare di martedì, invece arriverà di mercoledì a mezzogiorno e questo insomma ci ha un po', come dire, abbiamo dovuto un po' lavorare questo fine settimana per rimodulare un po' il programma, però lo abbiamo fatto perché oramai siamo abituati. Adesso parte la programmazione composta in tutta la regione Abruzzo, bisogna quindi cambiare un po' il sistema, non è più un sistema a chiamata, ma è un sistema a domanda che è quello del cittadino che chiede di essere vaccinato. Sarà anche più semplice per noi e per tutti i centri vaccinali organizzarsi, perché bisogna organizzare soltanto la fase della vaccinazione, la fase pre è già tutta compilata. I medici di famiglia sono importanti perché ci possono dare quel valore aggiunto relativamente all'anamnesi, all'esamo obiettivo, ma i medici di famiglia sono anche importanti per quello che sarà la vaccinazione, sia dei domiciliati a cui stiamo chiedendo di vaccinare, ma sia per quanto riguarda i propri assistiti. Mi sembra che la campagna vaccinale entra nel vivo, arriva anche Johnson & Johnson, in settimana dovremmo già avere le prime dosi, che è un vaccino simile ad AstraZeneca, cioè a vettore virale e monodose, per cui sarà anche più semplice, non ci saranno richiami. Anche sulle seconde dosi c'è un'ultima nota della struttura che ci dice che si può posticipare fino al 42esimo giorno, questo ci aiuta molto anche nell'organizzazione delle prime dosi e delle seconde dosi. Ogni ASL ha dovuto organizzare i propri hub, e quindi ogni ASL avrà i nuovi hub, noi nell'Altiteramo ne avrà cinque, abbiamo utilizzato una suddivisione territoriale, cercando di dare un po' di risposta a tutti i territori, col sistema posti ognuno potrà scegliere la sede, il hub dove andarsi a vaccinare, questo semplifica molto le cose.